Ho una formazione di storico della filosofia, ho studiato a Pisa presso la scuola normale superiore dove mi sono laureato e ho fatto anche il dottorato e dal 2015 al 2017 ho goduto di due borse di ricerca concessemi dalla fondazione Inaudi per svolgere ricerche di storia degli intellettuali applicate a figure degli studi economici italiani. In particolare ho condotto una ricerca su Claudio Napoleoni che si è conclusa nella scrittura e poi nella pubblicazione di una monografia finanziata dalla stessa fondazione. Attualmente sono qui come ricercatore e conduco una ricerca analoga su un personaggio diverso, l'economista Franco Momigliano, che è finanziata dalla fondazione Giuseppe Di Vagno di Conversano in provincia di Bari e che ha come focus la cultura economica del Partito Socialista italiano e la questione industriale in Italia.